Ciao a tutti, sono Marce di Giovanni, sono un'atleta master, insomma inizio ad avere anch'io la mia età. Vengo dalla palla a nuoto, a dire il vero, e quando ho smesso di giocare a palla a nuoto mi sono dedicata al nuoto e soprattutto ho scoperto il mondo delle acque libere. È un mondo secondo me bellissimo, l'ambiente è fantastico, le persone che partecipano a questi eventi sono veramente formidabili e si vedono di quelle storie incredibili. Negli ultimi anni ho avuto la possibilità di partecipare ai mondiali di nuoto master che si sono ottenuti nel 2019 in Corea e devo dire che è andata anche discretamente bene con un argento nella tre chilometri e un quarto posto, una medaglia di legno nei 200 stile, che comunque io sono molto soddisfatta di questo risultato. Partecipare qui per me è sempre comunque un'emozione, gareggiare in casa ti dà quello stimolo e quella marcia in più e poi dopo quest'annata difficile abbiamo avuto molta difficoltà ad allenarci a gareggiare ancora di più e è bello poter rivedere compagni di squadra anche lontani, fuori città e fuori regione. Secondo me è sempre un momento importante ed emozionante. Personalmente posso dirti che per i nuotatori di open water le condizioni in meteo sono abbastanza irrilevanti. Mi preoccupano più le onde che la pioggia. Il mare oggi era perfetto, era una tavola, quindi le condizioni erano ottime e alla fine eravamo in acqua, quindi acqua per acqua non cambia nulla. No, le condizioni pazzesche era veramente una gara che consiglio a tutti di fare una volta nella vita. È una gara per tutti dove è l'importante appunto condividere ed è un momento di condivisione importante soprattutto in questo anno difficile.